L'attaccante della battivagliese calcio Fosso Piccirillo, 33 anni, consensualmente con la dirigenza, ha annunciato di andar via dalla formazione allenata da mister Pietro Pinto. Il bomber e bolitano che ha sempre garantito la doppia cifra di reti in qualsiasi squadra in cui ha giocato, in questo avvio di campionato ha avuto problemi fisici per l'infortunio alla caviglia. Non ha trovato giustamente spazio ed ora che ha recuperato in pieno le condizioni fisiche è pronto a dare il proprio contributo in una nuova squadra. Diversi club che lo hanno contattato ma al momento non ha ancora sciolto la riserva. Grazie.